Buon ferragosto a tutti, giornata di svago, di sole, di relax, giornata di stacco verso quello che sarà poi gradualmente, gradatamente, suonano le campane, il ritorno alla normalità. Il ritorno alla normalità per gli appassionati di calcio, per i minanisti, è attualmente il campionato, che a questo punto è davvero in arrivo. Il Milan gioca di lunedì, ma siamo già, essendo martedì, nel vivo della settimana che porta all'inizio del campionato. L'Italia è molto presa da questa discussione sulle dimissioni di Roberto Mancini, che attirano vari commenti, poi vedremo quali saranno a cascata i riverberi, le scelte, anche per quanto riguarda il Milan. I tifosi rossoneri non hanno molto apprezzato l'accantonamento di Davide Calabria avvenuto nelle ultime fasi della gestione Mancini, vedremo se con Luciano Spalletti o con chi per esso cambierà qualcosa da questo punto di vista. Io sono abbastanza fresco di rassegna stampa e devo dirvi che sono rimasto un po' colpito dalla notizia di De Miral, che va all'Alali in Arabia Saudita, prende 10 milioni di euro l'anno e l'Alali l'ha pagato all'Atalanta 20 milioni. Io credo che nessuno mi darà in testa se dico che De Miral in questo momento appartiene ad uno slot di rendimento, ad una fascia di considerazione di valore complessivo simile a quella di Orighi. Ieri ne abbiamo parlato e molti di voi mi hanno risposto, hanno preso posizione. Insomma, quindi il tema ragazzi è uno e solo uno. O le offerte per Orighi non sono mai arrivate e quindi va bene, per carità, dall'Alabia Saudita intendo. Però un giocatore come lui, che ha fatto la storia del Liverpool, difficile che un calcio come quello Saudita, con i suoi dirigenti attentissimi a quello che accade o che è accaduto in Premier, non abbiano pensato a lui. Quindi o non sono arrivate mai offerte per Orighi, oppure sono arrivate e lui le ha rifiutate. Io ho letto da qualche parte nel corso dell'estate Orighi rifiuta tutto. Io penso che se siano stati offerti 10 milioni a De Miral, penso che siano stati offerti anche a Orighi, perché si dice Orighi è ingaggio alto. Ma insomma, 10 milioni è il doppio di quello che credo in questo momento più o meno percepisca, forse più del doppio, percepisca Orighi al Milan. Quindi o le ha rifiutate per motivi suoi, oppure perché vuole cercare un riscatto nel Milan. Non ha mai rilasciato particolari dichiarazioni nel corso della sua avventura rossonera di Voco-Righi. Quindi è chiaro che il paragone balza all'occhio con questa operazione De Miral, buon per l'Atalanta, buon per De Miral. La Gazzetta dello Sport fa una considerazione interessante. Dice che non è più il Pioli che dosa l'inserimento dei nuovi che arrivano dal mercato. Dice che una volta, fino allo scorso campionato, bisognava aspettare una, due, tre partite per vedere i nuovi, eccetera. Quest'anno invece li mette subito. Allora, io direi da questo punto di vista, calma, cioè dobbiamo fare un discorso più generale, piuttosto che andare su Pioli. Quindi, praticamente abbiamo avuto Loftus-Cic che era arrivato già, perché poi il Corriere dello Sport fa attenti a quei due, Loftus-Cic e Pulisic che hanno stregato Pioli. Loftus-Cic è arrivato già prima del raduno. Il 10 luglio Loftus-Cic era con i suoi compagni di squadra ad allenarsi e di lì a pochissimi giorni, credo uno o due giorni dopo, è arrivato Pulisic. Quindi, anche Reinders ha fatto tutta la tournée americana con il Milan. Cioè, questi giocatori chiave che praticamente sono arrivati subito. I giocatori, sapete, Ciuqueze ha quel gioco, ha quella personalità, ha quella fascia. Musa è un prospetto molto interessante da far crescere prima e da inserire. Poi, ecco, su Musa vale il discorso degli altri anni, ma non è che dipende dal ghiribizzo di Pioli. Dipende dalle situazioni, da chi arriva, dai tempi in cui si arriva. Ocafor aveva da rimettersi in passo a livello di preparazione appena entra in gruppo. Però i tre giocatori tattici chiave, Reinders, Pulisic e Loftus-Cic, praticamente li ha avuti dall'inizio. Praticamente li ha avuti dall'inizio. Cioè, Milan-Lubezzana è la prima partitella, Reinders era appena arrivato e iniziava a guardare. Cioè, quando i giocatori si inseriscono presto, e questo appartiene alle caratteristiche di ogni singola estate, dipende da tantissimi fattori, da tantissime variabili. Quindi, insomma, vedremo quello che accadrà, ma non è Pioli che è cambiato e che fa la rottura col passato. E che quest'estate lo ha messo in condizione di inserire i giocatori subito. Perché non è che i giocatori arrivano il giorno del raduno, bisogna per forza aspettare la terza di campionato per inserirli. Se arrivi il giorno del raduno, l'anno scorso Charles de Ketlare ha fatto pochi minuti il 6 agosto in coda a Vicenza-Milan e poi una settimana dopo iniziava il campionato. Cioè, tutti i tempi diversi, ragazzi. Sono i tempi che cambiano, è l'estate che è diversa, non Pioli che è cambiato. Ho finalmente, ieri vi avevo lasciato con il tarlo di Armando Broia, se era stato offerto, se il Milan aveva chiesto. Oggi ho capito dalle cronache dei giornali cosa è successo. È stato offerto da degli intermediari al Milan. Gli intermediari nel mercato sono fondamentali, perché non sempre le cose nascono con le società che si parlano direttamente. Ci sono intermediari che sondano, che preparano, intermediari che poi riferiscono alla gente, quindi la gente alla società e quindi le società eventualmente poi si parlano. È stato offerto al Milan da degli intermediari. Una volta che il Milan ha conosciuto l'offerta e si è detto interessato a parlarne, e quindi la cosa è salita di livello, a quel punto Pocettino, il tecnico del Chelsea, ha detto ma qui dobbiamo ancora completare il mercato in entrata in attacco, questo ragazzo fatemelo tenere ancora un po', tant'è che Niccolò Schira, lo potete leggere oggi su www.derby.it, dice che secondo lui è un'operazione fattibile a fine agosto, ma fattibile a fine agosto attualmente in relazione alla situazione di Lorenzo Colombo. Lorenzo Colombo sempre cercato da Cagliari e Genoa, Ballotti Ure, sempre cercato il Verde del Brema, ma vedo che sono situazioni un po' citate nei pastoni dei giornali, non sono situazioni vere, bagmatiche in divenire, non sono trattative e situazioni calde vere e proprie, quindi dobbiamo tener conto che in questo momento il mercato, soprattutto attorno a Ferragosto, è un mercato in surplus. Poi si vede chi e su cosa e quando e come si cerca di piazzare lo scatto su questa e quella operazione. Ciao a tutti, a più tardi.